Bell'amici del tubo! 1998, avete riconosciuto l'intro? Sì? No? Eh? Questa faccia dello zombie sì, sono sicuro di sì. E già, siamo tornati su Resident Evil 4, siamo tornati con le serie, il let's play, le cose belle e tutto il resto. WIIIIII! Già, e chi mi conosce bene sa che le serie non le finisco quasi mai, quindi... Però non parte una sega, no, questa volta voglio impegnarmi, voglio portarla avanti e via. E se chi mi conosce anche sa che in questo canale spesso facciamo le cose al contrario. Siamo partiti anni fa, tre, no, quattro anni fa, boh, non mi ricordo, tanto tempo fa con Resident Evil 5, siamo tornati oggi con Resident Evil 4, sì. Parte una sega. Oh yeah. Ora, siamo qua in compagnia di questi due simpatici omini. E... vi dico di questo gioco... eh... Non da quella parte, ok, io volevo subito scappare. Comunque, ehm... Questo gioco qui l'avevo giocato due volte, una volta su PlayStation 2 tantissimo tempo fa, quindi ovviamente non mi ricorderò una sega. Questa è la versione PC, quindi non so nemmeno i comandi, eh... come funziona, come funziona, ehm... No, 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 aspetta, eh, ok. Con vas mi muovo, con il mouse, ok, miro, ok. Ah, ok, shift, eh, avanti e dietro, faccio il centottantino così. Con tab... Ah, ok, ho armi salute, chiave tesori, mappa file... File ci dovrebbe essere... eh, ecco qua, ecco qua. Ok, sì, sì, sì... no, no, no... Ok, va bene, perfetto, ok. La roba che già so. Dobbiamo andare a salvare la figlia del presidente e per questo motivo ci hanno mandato qui, in un villaggio sperduto, in Spagna. Che bello. Se non ricordo male, devo sparare al corvo. Eh, eh, ricordavo bene allora. Oh, yeah, uno spinello, adesso ce lo fumiamo. Ombre maligne, eh. Non è un cliché, proprio no, no, assolutamente. Entriamo. Ah, ah. Buon uomo. Buon uomo. Questa qua. La vedi, questa qui, eh. Questa piondina, un po' fia. Che caraco stia... Cavrona me. Cavrona me. Cavrona me. Eh. Buono. Tavo... Uh, uh. Signori, è incazzato il signore. Freeze. Freeze, freeze. Non si freeze, non si freeze, non si freeze, non si freeze, vedete questo, ragazzi. Non si freeze. Calcio rotante di Chuck Norris. E' partita una... Sono i miei colleghi? No, chi sono questi? Oddio, che è? Oh, marane. Shit. Sono da solo. Ok, pronto? Chi parla? Tutto bene? Una sega tutto bene? C'è un locale stile. Eh, eh. Non circondato la zona. Oh, shit. E tu sei sul culo sulla sedia? Facile. Eh. Facile, troppo facile detta così. Oddio, 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 oddio. Troppo facile, signorina. Troppo facile. Mentre ci sono locali ostili e io devo andare verso il villaggio, ovviamente. Devo farmi accogliere, no? Devo andare alla festa. Alla fiesta. Chi è in Spagna? Oh, mio Dio. Quanti sono? Oh, imbesila a me. Come osi. Come osi. Oh, sono riuscito a prenderne più di uno, ok. Ti affetto il culo. Ti affetto il culo. Ti affetto il culo. Ti affetto il... Ok. Ehi, oh. Ha tankato. Hai tankato. La coltellata. Brutto bastardo. Non ho fatto una piega, ok. Quindi, di qua... No. Di qua? Di qua era... Cartello. Di là c'è scritto Pueblo. Ok. Quindi devo andare di là. Allora io me ne vado di qua. I, i, i. No, no, non per caglinaggini, ovviamente, no? È che bisogna esplorare per vedere se ci sono altre risorse utili. E... Ok, benissimo. Oh, no. No. Già, siamo rimasti solo noi, signor... Leon Kennedy. Signor Leon Kennedy. E stiamo andando a un villaggio a quanto pare ostile, visto che... I contadini qua, c'hanno le falle girate. E io, adesso... Sono un po' nella merda, perché devo andare a salvare... La figlia del presidente. La figlia del presidente. E io sono nella merda. Ah, la macchina da scrivere, ok. Salviamo. Anzi, sovrascriviamo il salvataggio vecchio. Che erano appunto 5 minuti di gioco, fino a questa macchinetta, per vedere se funzionava. Sono riuscito a dimenticarmi i comandi da un save game di 5 minuti all'altro. Cioè, vi rendete conto? Bomba a mano a me. Cagnolino! Buono, bollo. Bollo, cucciolone, dai. Si è fatto male la zampetta, poverino. Ah, ah, guarda, lì c'è un'altra. Un'altra trappola per orsi. Penso che sia lo stesso cartello. E poi, lo stesso di prima. Ok. Eh, i trappoloni. I big trapposi possono disinnescare qua? No, non si può fare una save. Eh, no, buono, buono. Eh, pensi non l'ho vista. Pensi non l'ho vista, guardala. Tocca a scansarla piano piano. Qui in mezzo. Un forastero. Un forastero assorato, vieni qua. Ti forasterizzo la fava, ecco. Rect. Questo è morto, questo l'ho shottato, è morto con un colpo solo. Buono, buono. Buono, buono, piano, piano. Buono, buono. Maina. Ci sarà. A me mi rompi a pedazzo. A me. A Leon. A me. Tu non hai capito niente della vita, compa. A jeste. A jeste. Vieni qua. Oh, ho missato. Bella pippa che sono. Oddio. Questo. E uff. Bella dodgiata, vieni qua. Come here, bitch. Oh. Tifo de puta. Ma assordo. Eh, ok, ok. Questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. Un po' rastero, sì. Un po' razzisti qua, eh. Un po' razzisti over 9000. Ok, male, malissimo, malissimo. Ehi. Andiamo sul sicuro. Ehi. Madonna, che pippa che sono. Allora. Devo capire un po' come funzionano i comandi su sto. Che ho preso questa versione PC, approfittando del... Amber Banderu. E' sprecata la bomboletta per così poca vita. Poi me l'allungherò con... Con l'erba gialla, però... Ehi. Vado a fare la spia. Vedete che c'è qualcuno dietro che mi vuole in cu. No? Bene, bene a sapersi. Ok. Devo prenderci confidenza con i... Madonna! E' legnoso perché non posso girare col mouse. Devo... C'è... Abominevole, davvero. Ah, guarda lì. Guarda l'omino là dentro. Ora... Vedo se ria... Oddio! Ah! Ok, eccolo là. M'ho visto? Buonasera, signore. Come va? Perfetto, perfetto. Prendiamo le munizioni, apriamo le scatole. Ok, ok, buono, 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 buono. E siamo arrivati a questa porta con questo simbolo qua. Let's go! Pronto? Anica, come vanno le cose? Come una merda. Ora mi mandi il manuale. Mi mandi il manuale adesso che già... E già il gioco ti manda prima i nemici e poi ti mandi il manuale. Così, ah, ti fotti come fare, ah. E la legge della strada, impari combattendo. Oh yes, baby. Allora. Che è successo qua? Eh! Hanno fatto il falò, guarda lì. Hanno freddo. Non è che è uno dei miei colleghi questo qua? Se... Quello che mi diceva è cowboy, dall'altra parte, cowboy. No, aspetta. Oddio, non so se è lui. Qua vediamo una gallina. Oddio. È bello abitato questo... Questo villaggio. Ok. Ok. Come si fa adesso a non farsi sgamare? No, aspetta. Il sentierino, il sentierino, bella roba, sì. Riusciamo in qualche modo a farcela stealth? O non si può? Ah, paurello, ho sentito. Mi vogliono andare a prendere. Ma se voglio camminare di lato, non si può? Non... Ah, qua anche con cu... Con cu cu, posso... Faccio cu cu e mi giro. Ottimo. Oddio, c'è gente. Mi sento, mi sento solid snake, ragazzi. Posso aprire? Piano, piano. Si chiude anche la porta? Sì, perché è buona educazione chiudere la porta. Qui c'è un barile, sembra si possa rompere, quindi facciamo casino. Ok, perfetto, non m'ho nemmeno sentito. Ho rischiato di farmi sgamare per mille pesetas. Che mone grabber. Ok, mille cento pesetas. I'm rich, bitches. I'm rich, bitches. Oh, questo è meglio delle pesetas. Una granata incendiaria. Ok, ora. Ma sì, dai, fuck. Via. Non mi staccando di stri... Ah, ok. Buonasera, signora. Tutto bene al mercato? Hai venduto il pesce, no? Ok, morta. Ok, presumo che m'abbiano sentito, ormai mi stiano venendo a prendere. Ah, non è morta. Adesso sì, però. Adesso sì. Ho sentito un qualcosa che arroteava, che me l'ha stato lanciato. Oddio. Che bella I'm... Che I'm di merda, signori. Shitty I'm, bitches. Qua abbiamo Rufy. Col cappello di paglia. Oddio, sono circondatissimo. Sono circondatissimo. Andiamo via assolutamente. Andiamo via assolutamente. Non so se mi devi infrascare qua dentro, sì. No, non c'è niente. Usciamo al più presto. Perché ti devi fermare per ricaricare? Non hai le gambine. Oddio, via. Chiuso. Andate da di dietro. Cioè, mi vogliono inculare. Vengono da di dietro. Questa è la differenza delle... Oh, marone. Un uomo con una motosega, signori. Questa è la differenza dei zombie, dei precedenti residenti, dei residenti, dei voli sono molto più intelligenti. Oddio, sono fottuto, sono fottuto. Devo imparare il range anche della coltellata. C'è qualcosa da mangiare? No. Ok. Allora, spingere. Sì, ma da che lato lo stai spingendo, idiota? Madonna, i comandi sono veramente... Obrobriosi proprio. E hanno sfondato la porta. Buonah, ciao ragazzi. Oh, uno schioppettone. Oh, avrei potuto accoltellarlo, però. Accoltellarlo, accoltellare... Il co... Mi sto impanicando, me sto impanicando. Posso saltare di sotto? Ok, perfetto. Calma il sangue freddo. Calma il sangue freddo. C'è un tizio con una motosega che mi sta inseguendo. Calma. Calmi. Un deja vu. Un deja vu di Resident Evil 5. Un po' originali, i tizi con la motosega. Posso farlo fuori con la schioppettata... Con la schi... Con la doppietta, ok. Come here, bitch. Come here, bitch. Debroto. Ah, è morto così. Che delusione. Che delusione, che delusione. Un uovo. Che cazzo me ne faccio di nuovo? Oh mio Dio. Questo? È bloccato e non si apre. Bloccato e non si apre. Bloccato e non si apre. È grosso e non ci è. What the fuck? What the fuck? No, è ancora... È ancora vivo. È ancora vivo. Come here, bitch. Wrecked. Guarda, c'è la processione. La processione per San Leon. Tutti a uccidermi. Oddio! Oddio, oddio. Raga, ma che bordello è? Che bordello è? Quello con la motosega è ancora vivo. Lo sentite? Allora. Ok, facciamo le cose a modo. Combiniamo. Erba gialla. Con... No, che cazzo sto dicendo. Con questa. E poi con l'erba verde. Che assumerò... Che troverò in seguito. Penso proprio di sì. E con quelle mi allungherò la barra della vita e mi curo tutto. Ahia, tua madre vacca, troia. Aha, ecco qua. Ecco qua. Ecco qua, signori. Questa è la svolta. Oh yeah, bitches. Adesso sì che prima no. E ho coltello le palline. E ho coltello le palline. Rekt. Oh, finalmente. È morto. Oh, diecimila peseta, signore. I'm rich as fuck, bitches. Anche se ho quasi sprecato tutti. Cammina! Tutti i proiettili della doppietta, però ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena, assolutamente. Si può aprire? O ci sono? Sì, ci sono già stato. Qua è dove ho rotto il barile. Oh mio Dio, il panico. Il panico, signori. Il panico, signori. La messa. La campana! Andate a pregare. Come si direbbe, salvato dalla campana proprio, ragazzi. Era la porta che volevo aprire e che in realtà era chiusa. Salvato dalla campana, ragazzi. A giocare a tombola, eh. Fai pure lo spiritoso. Residente maligno. 4. Ebbene, questo è il prologo che ci introduce al gioco. Bell'inizio, eh. E mi raccomando, ragazzi, continuate a seguire il prossimo video per vedere come proseguono le avventure di Leon. Un saluto da parte del vostro Nicar. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video con un bel like. Cosa posso migliorare con un commento. Se avete suggerimenti o robe varie. Non esitate a dirvelo. Ok? Bella, ragazzi. Un saluto da parte del vostro Nicar. Ci vediamo al prossimo videozzolo. E alla prossima. Quante volte ti ho prossima? Nella prossima frase? Non lo so. Vabbere, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.